2 giugno 2018 la nave per la Sardegna enorme contenta signora Rosa la signora Sardegna contenta pure e mai è felice poter abbracciare la mamma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dalla poppa della nave grazie a tutti 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 siamo grazie a tutti 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 Siamo a Pittulongo, oggi il 4 giugno 2018. 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 2018, brutto tempo, pioggia. Proprio tempo, invernale. Andiamo a fare la spesa. la romagnola, con la sigla rosa. 8 di giugno. E io nemmeno ho fatto. No, voglio dire... Questo l'ho acchiappato, ho detto sbagliare, questa c'è freddo. Ah, c'è freddo. Dai amici e il 6 giugno 2018. Ti metti adesso, sto freddo. Ah, c'è qui. Grazie. Quattro. Quanto è fritta, è vuoto? Sì. L'assaggio io. No, unico non lo facciamo, abbiamo le porzioni. Sì, facciamo a piatto sì. Va bene. Ok. Da bene signori? Da bene cosa scegliete? Mino e l'olio? La bottiglietta è la 33? Una 020? No, solo le bottigliette è la 33, le più piccole. E chi usa signora? Un po' di vino rosso. Bicchiere? Sì. Ok. Tu metti pure un po' di vino rosso? Sì. Tu? Tu? Possiamo fare mezzo litro della casa? Birra. Ok. Con carne e birra. Con melo, perché è il fritto misto. Va bene. E per la legge. Non è che me la devo. Ok. Quanti vuoi? Margherito? ��ca. benditi. Alla facciazza. Oh e Cinci. E' alla salute. Salute a tutti. Salute, salute. La ghost coglie. Lo ha esposto, lo sbattolo qua sotto. Vente sì. e tu? salute salute toccato come si permette che brava che l'ha fatto questa non lo so e il padre la fine del mondo ho fatto la fregola buona buona e questo cos'è? la fregola la fregola con i moscardini cos'è la fregola? con i moscardini io la sto mangiando da Paolo che vanno ogni venerdì oggi mi ha detto vanno a me ma buoni la fregola è una è no buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito prima di venire prima di venire prima di venire buon appetito 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 Frittura Piccante Nicola Spiagge 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 Siamo in lo sazio Aspetta un po' vicino Aspetta però poi tu lo scancelli Quello che viene brutto Ok, era troppo vicino Piano piano Ma perché te ne sei andato a tre Perché te ne sei andato a tre Perché te ne sei andato a tre Non si è andato a tre Quindi ti avrebbe nessun ruolo O se senza sperare Il pranzo del giorno 9 giugno 2018 2018 Ah ma che bella Pasta alla norma Dai Buona A lei cosa ti piace? Ci sto Ci sto Siamo andato con Paoletta a comprare le cozze Paoletta la portata e vediamo che faccio un primo piano, ridi ridi che vanno a fattere gli gnocchi dai ecco qua siamo al molo Brin dove si può posteggiare e anche gratuitamente vai avanti un altro piano, ridi ridi che c'è la campagna di fredda l'arrivo, che vieni a santo sul piano, ridi che vieni a fare il potere, vieni a rinaglio, ridi che vieni a santo il potere, che vieni a santo, sono bella, che vieni a santo era l'arrivo, che vieni a santo, è il potere, che vieni a santo Grazie a tutti Andiamo Guarda quando pesci ci sono Guarda quando pesci ci sono Che pesci sono? In giro Questo è il lago però? No, questo è il fiume Il fiume Questo è il fiume Il parco di odia Guarda quando pesci ci sono 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 Guarda quando pesci ci sono